Un adeguamento progressivo c'è stato negli anni, dal 2022 per la precisione, ma ora anche a Casal Maggiore gli stipendi di sindaco e giunta sono per così dire a regime. Stipendi che erano fermi alla 2000 e che appunto sono poi progressivamente saliti in tutta Italia. Ora che il buon Giovanni Ter è partito da un paio di mesi ci possono fare i conti in tasca che chiaramente riguardano tre figure, ossia il primo cittadino, il vice sindaco e i vari assessori. Prima di rispondere al rebus e alla curiosità dei cittadini va precisato che i vari adeguamenti sono stati importanti soprattutto per i piccoli comuni, dove fino a pochi anni fa i sindaci rischiavano di prendere meno dei famosi 780 euro del reddito di cittadinanza. Dunque per una figura sempre più inflazionata, come quella del primo cittadino, uno stipendio poco incentivante ferma restando la necessità di candidarsi non solo per una mera questione economica. Ma anche il portafoglio vuole la sua parte e allora andiamo a far di conto. Il sindaco di Casal Maggiore, ossia di un comune inserito tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, percepisce uno stipendio lordo di 4.140 euro al mese. Al vice sindaco vanno invece 2.277 euro, sempre calcolati all'ordo mensile. Poi la distinzione viene fatta per gli assessori. Chi non ha un lavoro da dipendente percepisce 1.863 euro lordi. Chi invece fa l'assessore, ma ha anche un lavoro da dipendente, scende del 50% ottenendo così al mese un lordo di 931,50 euro.